buongiorno a tutti oggi vorrei presentare questo libro purtroppo senza Ivo Sarietti ma ho appena sentito Ivo Sarietti anche telefonicamente e che sicuramente questo autunno faremo questa intervista ma più che intervista desidero che Ivo Sarietti raccontasse di questo libro allora si tratta di ritorno a Deil Mar Musa di Siria ok il padre Paolo scomparso ormai da dieci anni cioè loro amicizia vanno avanti ben oltre vent'anni cioè qui c'è un coinvolgimento sentimentale di Ivo Sarietti è un coinvolgimento molto profondo che è un libro che cioè inizia dalla lettera di questo padre e che racconta diciamo anche loro l'apporto cioè fotografia cioè il padre che anche parla anche di fotografia di Ivo Sarietti e poi con tante immagini sequenza anche molto bene cioè perché è ben pensato e finisce con una lettera ma veramente toccante di Ivo Sarietti Ivo Sarietti che scrive questa lettera a padre Dallorio e non non è il mio lavoro vendere il libro no cioè però a questo suggerisco a tutti appassionati di fotografia di acquistare perché questo è editato da Emuse e costa solo 28 euro cioè questo 28 euro credetemi gli spesi bene ma veramente una gemma ebbene quindi non voglio allungare a spiegare questo libro perché comprate perché vale la pena e leggete ho appena parlato cioè come ho detto ho appena parlato con Ivo Sarietti cioè mi piacerebbe tantissimo e che venga raccontato da lui in persona e che comunque lo faremo organizzeremo appena cioè no torneremo dalla vacanza cioè lo faremo bene grazie dell'attenzione e ci vediamo presto complimenti a te perché probabilmente uno dei libri più belli che io abbia mai avuto è un coinvolgimento sentimentale cioè molto profondo e bellissima questa vostra amicizia cioè veramente bella 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 e leggere anche la tua lettera e anche lettera di padre paolo mamma mia cioè cioè non solo le fotografie cioè e anche lettura è veramente bella cioè questo è veramente un capolavoro Ivo sì 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 cioè è bellissimo davvero fantastico io complimenti a te come poi come stai adesso stai bene certo 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 va bene d'accordo bene Ivo grazie sì molto bene molto bene no 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 Ivo tu sei grande davvero cioè hai dimostrato di nuovo cioè proprio la tua grandezza straordinarietà cioè straordinarietà cioè proprio di fotografo di persona cioè è veramente eccezionale bene ok allora sì tanti auguri eh va bene grazie ciao ciao abbi cura di te ciao ciao abbi cura di te ciao